Musica Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di scuola e parliamo di una scuola, quella molisana, alle prese con due problemi fondamentali. Quello della sicurezza degli edifici e quello del mancato varo del piano di dimensionamento da parte della Regione. Nel primo caso, dopo anni di denunce, lo scenario non è affatto rassicurante. Per quanto concerne l'organizzazione delle classi, a sua volta l'ufficio regionale scolastico ha contribuito a ingarbugliare il quadro. Vediamo il servizio di apertura. È un problema primario quello dell'edilizia scolastica, lo è per ovvie ragioni di sicurezza dopo le tristi esperienze del passato. Ma lo è più in generale, per ragioni di funzionalità didattica e gestione delle risorse. Eppure, sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, ogni volta qui in Molise sembra che si riparta da zero. A farsene carico dovrebbero essere i comuni e le province, ma un ruolo importante spetta alla Regione, per pianificare al meglio e soprattutto per risolvere il problema della sicurezza a livello strutturale e non emergenziale. La Regione dovrebbe varare un piano di dimensionamento che tenga conto dell'esigenza di garantire efficacia didattica e gestione oculata delle risorse. Ma dopo aver avviato le procedure, la Regione si è impantanata nei soliti conflitti tra istituzioni, interessi localistici, logiche e politiche. In altre parole, si è impantanata nella spartizione delle poltrone. Alcune scuole sottodimensionate rischiano di avere un'autonomia di sola facciata perché rimarranno senza dirigenti titolari, mentre le pluriclassi, anziché l'eccezione, sembrano diventare la norma. E anche in questo caso i contribuenti ne avranno un danno economico, perché le reggenze e la frammentazione delle scuole arrecano anche un aggravio di spesa. La Regione, dopo aver emanato le linee guida, i cui criteri sono corretti e prevedono l'aggregazione delle scuole in poli, ne ha fatto lettera morta. E ne ha fatto lettera morta per salvaguardare le posizioni privilegiate, insomma, il solito cane che si morde la solita coda. A complicare il nulla arriva poi l'ufficio scolastico regionale e presenta progetti differenziati, strabici, ambigui, affatto sequenziali, anzi a dirla tutta, tra loro contrastanti. L'ufficio scolastico regionale che si era pronunciato per l'attuazione del piano si è infatti poi arroccato sulle posizioni dell'eterno attendismo. Rinviamo per studiare meglio, con il magnifico risultato di tirare a campare. Il varo mancato del piano di dimensionamento scolastico sta determinando sperequazioni inaccettabili tra scuole che hanno classi formate da poche unità di alunni e, nelle città più grandi, le cosiddette classi pollaio. Come se non bastasse, l'ufficio regionale scolastico, contravvenendo alle disposizioni normative, ha prima soppresso le classi terminali e poi, ad anno scolastico iniziato, ha autorizzato diverse classi prime, con un numero di alunni davvero sparuto. La mano sinistra non sa cosa fa la mano destra, con il risultato che nessuno degli organi competenti pare rendere un servizio utile agli studenti, alle famiglie, ai docenti. Nella regione renderà servizio utile fino a quando continuerà a derogare fondi a pioggia e ad personam. Come gli ultimi 800 mila euro, destinati proprio all'ufficio scolastico regionale, per progetti che appaiono inadeguati e inappropriati, lesivi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e offensivi della professionalità dei docenti. Cambiamo argomento e parliamo di sanità con il Consiglio Comunale di Campobasso, chiamato ad esprimersi sulla mozione presentata da quattro consiglieri di maggioranza a sostegno della sanità pubblica, in particolare del Cardarelli. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. L'8 aprile di un anno fa l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno che impegnava il Presidente della Regione a mettere in atto tutte le iniziative per riqualificare il Cardarelli di Campobasso, potenziando l'ospedale e investendo in tecnologia, attivando tutte le procedure necessarie affinché venisse riconosciuto Dea di secondo livello. Il Consiglio Comunale di Campobasso si era schierato in maniera netta e chiara a sostegno della sanità pubblica. Da allora ne passata di acqua sotto i ponti e la deliberazione votata da Palazzo San Giorgio non è stata minimamente presa in considerazione dal commissario ad acta. I piani operativi elaborati dalla struttura commissariale prevedono infatti un forte sbilanciamento della sanità privata ai danni di quella pubblica. Da qui la presa di posizione di un gruppo di consiglieri di maggioranza, Montanaro, Danchise, Marroncelli e Colarusso, che hanno presentato una mozione con la quale rinfrescano la memoria al sindaco Battista, alla sua maggioranza e all'intero Consiglio Comunale, un documento con il quale ribadiscono la necessità di tutelare il Cardarelli che, secondo la proposta di piani operativi, perderebbe due reparti importanti come quello di cardiologia e oncologia. Noi chiediamo che assolutamente non si deve togliere sia l'oncologia che la cardiologia, che sono il fiore all'occhiello del Cardarelli, funzionano bene, benissimo. Vorrei che si ritornassi indietro per questi provvedimenti della soppressione sia la cardiologia che l'oncologia. Io sono d'accordo all'integrazione, dove manca il Cardarelli, il servizio pubblico si rafforzi poi con quella privata. Dall'opposizione Francesco Pilone va giù duro criticando l'atteggiamento del centro-sinistra di Palazzo San Giorgio che sembra fare orecchie da mercante. Vorrei ribadire che questo Consiglio Comunale, grazie all'opposizione, circa un anno fa, era all'inizio di aprile, ha chiesto una seduta monotematica chiedendo l'intervento del Governatore Frattura, anche del Direttore Generale. In quella circostanza la maggioranza, in particolar modo il PD, ha elaborato un ordine del giorno per la tutela del Cardarelli, un atto politico molto forte per garantire il livello di assistenza di secondo livello. Siamo fermi a quell'ordine del giorno. Oggi vedo quest'altro ordine del giorno che ci vede in linea di principio, ovviamente d'accordo, nel merito ne siamo per un'attenzione, ovviamente la salvaguardia dell'ospedale regionale Cardarelli, che è un servizio fondamentale rivolto ai cittadini. È strano che politicamente una parte della maggioranza debba ribadire con ulteriore emozione un atto sul quale già il Consiglio si era espresso. Vuol dire che tra la filiera, visto che si richiama molto, la filiera istituzionale, o non parlano, o non dialogo, o qualcuno gli viene detto qualcosa in un orecchio ma dall'altro esce. Quindi va chiarito questo aspetto essenzialmente politico. Dopo la relazione affidata al Consigliere Montanaro, la seduta è stata aggiornata mercoledì prossimo. Spostiamoci ora a Isernia per parlare dell'elezione del Sindaco. Lucio Pastore e Alberto Gentile rompono gli indugi. Pensiero libero, questo è il nome del loro movimento trasversale ai partiti presentato in città. Un movimento che guarda alle elezioni comunali e progetta un'alleanza con SEL. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Elezione del Sindaco, il malessere e le spaccature interne al PD continuano a produrre risultati devastanti per il Partito Democratico a Isernia. Prima Massimiliano Scarabbeo con la sua lista insieme a Vincenzo Niro, poi Cosmo Tedeschi con le sue sei liste. Oggi nasce in contrapposizione proprio al PD anche un'altra alleanza che guarda al centro-sinistra. Si tratta di Pensiero Libero, una creatura di Lucio Pastore e Alberto Gentile, trasversale ai partiti e alla società civile, ma con un ponte già lanciato verso sinistra e libertà. Il fine è quello di creare un'alleanza alternativa a un PD che oggi, come oggi, sembra poter contare fino in fondo per le primarie solo sul rialzati in Molise. Un'alleanza, quella di Gentile Pastore, che punta soprattutto sugli scontenti. Non sono io via dal PD, ma il PD via da me, e non solo da me, ma da tutti gli elettori che sono rimasti estremamente delusi da questa deriva del paradigma politico che era parte fondante dell'attività politica del PD e che non c'è più. E dunque potrei liquidare la cosa con una sola battuta, un po' amara, e cioè che quando il servo si ribella per diventare uomo libero, quando il servo si ribella per diventare nuovo padrone, la cosa non va più bene. Il manifesto di Pensiero Libero è la sintesi dei concetti da sempre espressi in mille battaglie da Lucio Pastore, come cittadino e come medico. Si nasce proprio dall'esigenza di questo vuoto che noi abbiamo a livello locale, vuoto politico ma ancora più vuoto culturale. Noi abbiamo la necessità di non ripresentare gli stessi schemi del passato perché la politica ha bisogno di qualcosa di nuovo e noi ci stiamo proponendo come qualcosa di nuovo. Per l'individuazione del sindaco la scelta sembra ristretta allo stesso Pastore, Sara Ferri di SEL e Alberto Gentile. Al di fuori dei partiti, trasversale alla società civile, ma si parla anche di un'intesa possibile con SEL e altri movimenti di sinistra, Gentile? Sì, sicuramente, io ho detto che se si legge il manifesto c'è scritto in pratica quello che è il progetto politico. Noi siamo il centro-sinistra l'originale e visto che è il mutamento genetico che c'è stato da parte del PD noi proponiamo un centro-sinistra originale. Naturalmente, la parte moderata, siamo la ricerca di alleati leggendo il documento di SEL e c'è abbastanza affinità che nel nostro documento politico credo che è una cosa quasi scontata che ci sia con SEL. Abbiamo anche parlato, ma naturalmente siamo rimasti alla presentazione del nostro progetto. Sindaco possibile? Il sindaco non si fa con gli alleati. Quando avremo un quadro preciso di chi si allea, che siamo in più partiti, che quanti ne siamo, ci sediamo a un tavolo e si può decidere. Dopo un progetto anche amministrativo fatto insieme possiamo decidere alla fine di chi è il candidato. domani a Boiano, uno dei comuni dove si voterà per rinnovare l'amministrazione comunale, arriveranno i portavoce del Movimento 5 Stelle in Senato, Nicola Morra e Gianluca Castaldi, che incontreranno cittadini attivisti. Ad accoglierli saranno i portavoce in Consiglio regionale Antonio Federico e Patrizia Manzo. L'appuntamento è in programma alle 17.30 a Palazzo Colagrosso, dove saranno affrontati temi locali e nazionali. Parliamo ora delle polveri sottili al nucleo industriale di Termoli e delle verifiche sulla potabilità dell'acqua. L'Arpa Molise ha potenziato i controlli sulla qualità dell'aria e presto saranno riviste anche le linee guida regionali che riguardano il sistema idrico. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Chiarezza sui livelli delle polveri sottili nel nucleo industriale di Termoli. L'Arpa ha intensificato i controlli delle emissioni in atmosfera dopo il superamento di alcuni valori registrati da una stazione di monitoraggio nel 2015. Ad oggi, fa sapere l'agenzia, in una nota firma del commissario straordinario Antonella Lavalle, sono state controllate quattro aziende e gli esiti delle rilevazioni saranno comunicati quando verrà conclusa la procedura sulla qualità dell'aria anche delle altre stazioni. È inoltre in corso una campagna di monitoraggio del particolato PM10 con un centro mobile vicino alla stazione, la Termoli 4, dove sono stati superati in precedenza i valori. Non sono mancati gli incontri tra Arpa, Regione, Provincia, Cosib e i comuni di Campomarino, Guglionesi, Porto Cannone e Termoli. Sono stati acquisiti i dati relativi a eventi che si sono verificati nel periodo in esame, quali incendi, pratiche agricole, lavori stradali che, spiegano dall'ARPA, possono aver contribuito al superamento della soglia giornaliera del PM10. Presto verrà siglato un protocollo d'intesa tra la Regione e i comuni interessati, dedicato a lezioni da adottare in caso di ripetuti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria. Istituito inoltre anche un tavolo tecnico permanente. Sul tema dell'acqua potabile, invece, sono state avviate le procedure per rivedere le linee guida regionali sui controlli sanitari e dei criteri da seguire per la gestione dei casi di non conformità. Intanto a Termoli si è svolto un tavolo tecnico sulle segnalazioni relative alla torbidità dell'acqua in alcune zone della città. I parametri sono risultati normali, ma per il futuro il sindaco Angelo Sbrocca ha chiesto maggiori analisi e nuove procedure nei controlli per evitare disagi ai cittadini. La scommessa è stata pienamente vinta. Così commentano i comitati la manifestazione organizzata a Termoli contro la devastazione del territorio. Rappresentati durante il corteo molti dei comuni della fascia costiera da fuori regione sono poi arrivati attivisti di Pescara e dai comuni della provincia di Chieti, da San Giovanni Rotondo e da Foggia. Soddisfatti per la buona riuscita di un evento costruito in meno di due settimane hanno spiegato gli organizzatori che rappresentava una rischiosa scommessa in un territorio come quello del Basso Molise, dove non sempre la popolazione si è dimostrata pronta a reagire. Parliamo ora dell'edilizia in crisi, alle promesse, agli annunci, seguono i fatti. Ora è l'appello alla politica della Will con Roberto D'Aloia, ce ne parla Tonino Danese. Nei giorni scorsi il governatore Frattura e l'assessore Nagni hanno annunciato lavori sulla viabilità per oltre 7 milioni di euro dopo la firma di un accordo con il Ministero e l'Agenzia per la coesione territoriale. Intanto sindacati e associazioni di categoria in attesa che qualcosa cambi meglio e che si dia concretamente, seguito ad annunci e promesse, continuano a denunciare lo stato comatoso del settore dell'edilizia. Il settore dell'edilizia è quello che ha subito maggiori perdite in livelli occupazionali ed è quello che fa più fatica ad essere rilanciato in questi ultimi anni. Erano state fatte tante promesse, i 91 milioni da appaltare, ad oggi tutto ciò è rimasto fumo, non è stato appaltato niente. È il rischio che corriamo che per l'ennesima volta questi fondi tornino indietro. Entro giugno una serie di fondi rischiamo di perderli a causa della mancanza degli appalti. Questo è un problema che ci portiamo dietro, è un problema che riguarda l'edilizia ma riguarda tutto il sistema produttivo della nostra regione perché, come noto ormai a tutti, l'edilizia è un volano della ripresa economica e purtroppo questo è un volano fermo nella nostra regione e quindi che ci crea gravi problemi. Il rilancio del settore dell'edilizia per il segretario regionale della Feneal Will, Roberto D'Aloia, è importante e fondamentale. In maniera unitaria con le altre organizzazioni sindacali e anche datoriali stiamo pensando di fare una iniziativa per rilanciare il nostro settore dell'edilizia. E sui problemi dell'edilizia è tornato ad esprimersi anche il presidente dell'ACEM che ha scritto una lettera aperta al governatore. Il rapporto di fiducia con la regione si è incrinato ormai, ha dichiarato Corrado, di Niro. Dal 2008 oltre 600 imprese hanno chiuso e il numero dei lavoratori si è dimezzato. Di Niro ha accusato Frattura di essere il responsabile dell'indebitamento delle imprese che hanno avviato lavori importanti fiduciose che i soldi della regione sarebbero arrivati così come promesso. L'ACEM dunque chiede un intervento immediato. Le risorse 20 milioni di euro ha in serata spiegato il governatore in risposta proprio all'ACEM sono nella disponibilità della nuova agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma. L'agenzia ha concluso il governatore pagherà le imprese nel rispetto delle norme. E ora parliamo della galleria di Belmonte del Sannio chiusa da 10 mesi perché dopo il via libera al finanziamento da parte della regione la provincia di Isernia si appresta a pubblicare il bando di gara per la messa in sicurezza del tunnel. Salvo imprevisti i lavori dovrebbero essere assegnati entro la metà di marzo. Sentiamo Sergio di Vincenzo. Meglio tardi che mai dopo mesi di promesse e palleggi di competenze finalmente appare in discesa la strada per la messa in sicurezza della galleria di Belmonte del Sannio. Tra i 7 milioni e 200 mila euro di lavori previsti nell'ambito dell'atto integrativo dell'accordo di programma quadro sulla viabilità ci sono anche 200 mila euro necessari per l'intervento nel tunnel di Fonte Vallone. Dopo l'annuncio dello scorso weekend da parte del presidente della regione Frattura e dell'assessore alle infrastrutture in Agni l'amministrazione provinciale di Sernia si è messa al lavoro. La delibera della presa d'atto del finanziamento è stata firmata mentre entro la fine di questa settimana sarà dato il via libera alla determina per avviare le procedure per indire la gara d'appalto significa che intorno alla metà di marzo si dovrebbe conoscere il nome dell'impresa che dovrebbe effettuare l'intervento un deciso passo in avanti dopo mesi di attese la galleria di Belmonte è infatti chiusa al traffico dall'aprile del 2015 facendo venire meno l'unico collegamento tra l'Alto Molise e l'Abruzzo gli appelli degli studenti e dei lavoratori ma anche degli utenti che fanno riferimento all'ospedale di Agnone sono stati raccolti anche da striscia la notizia che ha inviato sul posto Eugenio Il Genio probabilmente è stata questa la svolta l'assessore Nagni in quell'occasione si è impegnato a risolvere il problema seppur con qualche mese di ritardo ha mantenuto la promessa ora la palla passa alla provincia il delegato alla viabilità Mike Matticoli pur sottolineando che per bandire la gara bisogna rispettare i tempi tecnici è apparso ottimista se non ci saranno intoppi ha detto i lavori dovrebbero cominciare entro la fine di marzo torniamo a Termoli perché dopo la denuncia sulle cattive condizioni in cui versa il parchetto Sant'Alfonso sarà l'associazione Il Mosaico a farsi carico dell'acquisto di nuove giostre per l'area ce ne parla Manuela Iorio dove non riesce il pubblico c'è il privato che arriva in soccorso succede a Termoli dove dopo la denuncia delle cattive condizioni in cui verse il parchetto Sant'Alfonso con scivoli altalene rotte l'associazione Il Mosaico composta da giovani genitori ha deciso di rimettere a nuovo a proprie spese l'area verde un'iniziativa lodevole che mostra quanto i cittadini stessi abbiano a cuore il bene pubblico soprattutto dei più piccoli verranno acquistate nuove giostre per un totale di 5.000 euro un costo che per un comune grande come Termoli sarebbe davvero irrisorio e che invece non ha mai investito nel recupero di aree verdi e nella realizzazione di spazi per i bambini vedendo le condizioni di quel parchetto abbiamo deciso come associazione Il Mosaico di finanziare l'acquisto di 4 giostrine per una spesa di circa 5.000 euro per sostituire 4 giostrine che sono in condizioni veramente pessime con il rischio per i bambini di farsi male quindi che cosa faremo le acquisteremo le doneremo al comune come abbiamo già fatto in altre occasioni e il comune si prenderà l'onere di installarle e soprattutto di fare manutenzione nel tempo sperando che questo sia un piccolo segnale che serva a smuovere le coscienze di tanti amministratori che non ascoltano il grido di tanti genitori che magari si accontendono di poco di qualche area giochi attrezzata e speriamo così di smuovere un po' le acque che tipo di giostre avete acquistato? sono due diciamo altaliene per sostituire quelle che sono quasi inesistenti un bilico per i bambini piccoli e uno scivolo con una torretta come vi sostenete? ci sosteniamo con il 5 per 1000 sostanzialmente le persone vedono l'investimento sul territorio di queste opere concrete e poi ci sostengono con il 5 per 1000 oppure c'è un po' di autofinanziamento 4 persone denunciate per spaccio di droga e immigrazione clandestina più il sequestro di numerose dosi di droga è il risultato dei controlli predisposti dai carabinieri di Sernia a finire nel mirino degli uomini del nucleo operativo radiomobile nel corso di distinte operazioni 4 giovani di cui 3 nordafricani trovati in possesso di alcuni involucri che contenevano hashish due di questi giovani erano sprovvisti di permesso di soggiorno e per loro sono state avviate le procedure di espulsione e parliamo ancora della nuova sede della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Sernia perché su richiesta del dirigente scolastico di Sansa sono stati effettuati nuovi controlli nei locali della tipografia Cicchetti i risultati sono stati resi noti durante la manifestazione bambini in festa organizzata per accogliere i nuovi iscritti sentiamo com'è andata nel servizio ancora di Sergio Di Vincenzo la festa organizzata alla scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Sernia ha dato ai bambini un'occasione in più per divertirsi mentre i loro genitori hanno avuto l'opportunità di conoscere più a fondo l'offerta formativa della scuola e i locali al piano superiore della tipografia Cicchetti al centro di numerose polemiche dopo il trasferimento dalla vecchia sede ritenuta non sicura dal punto di vista sismico cerchiamo di agevolare il percorso dei bambini da un ambiente familiare fondato su una relazione prevalentemente affettiva ad un ambiente più strutturato dove ci si mette a confronto con le prime regole quindi è un passaggio dalla famiglia alla scuola vera e propria che noi tentiamo di rendere piacevole e rilassante La scelta di organizzare la manifestazione nella nuova sede non è stata dunque casuale è stato un modo per permettere a tutti di rendersi conto di persona se quei locali già interessati dai controlli dei carabinieri del NAS siano o meno idonei Siamo ancora in attesa degli esiti del sopralluogo effettuato dai NAS in effetti invece abbiamo avuto il secondo rapporto tecnico di misura dei composti organici volatili che ha dato dei dati assolutamente rassicuranti questa volta naturalmente i controlli sono stati rilevi sono stati fatti con l'attività tipografica in piena attività e con l'attività didattica in piena attività abbiamo effettuato venerdì scorso intorno alle 11 e mezzo quindi tutto era in piena attività intanto un gruppo di genitori attraverso una lettera ha ribadito la propria fiducia al dirigente scolastico e mostrato apprezzamento per l'offerta formativa ma al tempo stesso è stata chiesta per l'ennesima volta una sede definitiva per i bambini della Don Bosco noi comunità scolastica della San Giovanni Bosco chiediamo a gran voce alla classe politica è quello di darci una sede sicura definitiva è stabile io credo che tutto quello che è accaduto è derivato proprio dal fatto che siamo ormai stanchi di muoverci continuamente senza sapere né dove né quando né perché e quindi ciò che chiediamo a gran voce è di darci una sede definitiva sono quattro traslochi che noi effettuiamo siamo l'unica scuola davvero nella regione che è sottoposta a questo continuo stress c'è anche un vino molisano tra le migliori 101 bottiglie del mondo secondo una delle più importanti riviste internazionali del settore il vino inserito nella speciale graduatoria è il Don Luigi riserva 2012 della Cantina di Mai onorante di Campomarino un motivo d'orgoglio ha commentato l'assessore alle politiche agricole Vittorino Facciolla per il settore per l'immagine dell'intera regione il vai on di tutti da Longarone a San Giuliano riflessi di speranza un progetto teatrale a cura di Andrea Ortis che andrà in scena al Teatro Savoia di Campobasso il prossimo 13 marzo in questi giorni il regista e la presidente del comitato sopravvissuti del vai on stanno incontrando i ragazzi delle scuole oggi è toccato agli studenti dell'istituto Marconi ce ne parla Patrizia Testa è considerata da sempre una delle più grandi tragedie nella storia italiana del secolo scorso parliamo del disastro della diga del Vaillant una grossa frana staccatasi dal monte Toc nell'ottobre del 1963 causò un'inondazione che devastò la zona in particolare Longarone e spense la vita di quasi 2000 persone un evento che fece scattare la solidarietà da tutta Italia anche molti giovani molisani in servizio di leva al nord si trovarono a soccorrere le vittime della catastrofe una storia che porta con sé ancora molti strascichi e con tanti punti oscuri da chiarire per queste ragioni alcuni anni fa è stato costituito il comitato sopravvissuti del Vaillant la presidente Micaela Coletti ai tempi della tragedia aveva 12 anni ed ora si batte per i diritti dei superstiti l'obiettivo di questo comitato in particolare è proprio quello di portare avanti la memoria la memoria di quello che è successo non soltanto dell'atto finale diciamo del 9 ottobre ma di quello che è successo dopo del disinteresse della politica dello Stato di tutto quello che non è stato fatto a nostro danno questo la gente deve sapere perché comunque è una storia che non è soltanto di 52 anni fa ma di tutti i giorni il ricordo di quanto accaduto nel 63 ha dato vita ad un progetto teatrale il Vaillant di tutti da Longarone a San Giuliano riflessi di speranza scritto e diretto da Andrea Ortis andrà in scena il 13 marzo al Teatro Savoia di Campobasso è un viaggio che racconta anche i fatti del Vaillant come Phil Rouge nella sceneggiatura teatrale ma è anche un viaggio di speranza è un racconto spesso simpatico ironico sulle deficienze chiamiamole così di tutti noi affinità che ci sono tra nord e sud insomma in fondo cambiano i dialetti ma siamo quelli in osteria nelle serre a raccontarci le cose innamorati delle nostre tradizioni e delle radici è anche questo soprattutto un viaggio nell'umanità italiana nelle sue sfaccettature e nei suoi mille colori in questi giorni la presentazione del progetto nelle scuole per far aprire gli occhi ai giovani su un tema tanto importante oggi il regista e la presidente del comitato hanno incontrato i ragazzi dell'istituto Marconi di Campobasso siamo in chiusura ma consentiteci prima di formulare i nostri migliori auguri a Maria Michela Sforza che è nata a Ferrazzano cento anni fa per l'occasione si è riunita oggi l'intera famiglia i cui componenti sono in pratica sparsi in mezzo mondo dagli Stati Uniti al Canada all'Argentina attorno a nonna Maria Michela oltre ai familiari più stretti abbiamo visto nella foto anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista che l'ha voluta omaggiare di una targa presente ai festeggiamenti anche la comunità di Ferrazzano rappresentata dal sindaco Antonio Cerio termina qui anche l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise ed io vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete la nostra informazione buonanotte di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise